Allora, ciao a tutti, oggi in questo tutorial vi spiego come bypassare sostanzialmente il divieto che YouTube pone ai vostri video quando contengono una traccia musicale. Allora, come vedete qui nella sezione del video manager, vedete che ho un video che è bloccato. Allora, molto semplicemente voi dovete cliccare sul video, o meglio, cliccare sul qui, dopodiché vi si aprirà una pagina con le ragioni per le quali YouTube ritiene che voi stiate violando il copyright. Voi dovete cliccare qui, dopodiché tornate di nuovo in questa pagina e cliccate dispute. Dopodiché vedrete varie opzioni e dovete cliccare questa qui. Poi andate avanti, mettete un segnale anche qui, andate avanti, continuate e qui dovete mettere la spiegazione. Per la ragione dovete scrivere questo. This video uses copyright material in a manner that does not require approval of the copyright holder. It's fair use under copyright law. Dovete scrivere questo. Una volta che avete scritto questo, chiaramente o lo scrivete o lo copiate, io comunque l'ho messo in descrizione, cliccate qui e qua poi scrivete il vostro nome. Dopodiché cliccate su continua, continue e infine vi chiederà di salvare il tutto. Qui c'è la storia sostanzialmente di ciò che avete fatto, c'è tutto l'elenco e vedete le ragioni della disputa e la spiegazione e poi schiacciate qui e come vedete qui c'è una B e chiaramente poi il colore verde che vi fa capire che è tutto ok. Se tornate nel Video Manager vedrete che non è più bloccato. Vedrete anche schiacciando Edit e schiacciando Advanced Settings che qui la syndication è everywhere. Non è più no, non si può vedere sulla tv, non si può vedere sui telefoni, lo potete vedere dovunque. Quindi in questo modo qua voi avete accettato sostanzialmente la claim che vi hanno fatto ma avete anche spiegato che di fatto voi non violate alcun diritto perché di fatto non mettete in pericolo alcun tipo di diritto a tu. Questo perché non utilizzate per fini commerciali la musica o il pezzo di musica che avete aggiunto al video. Spero che il video sia stato utile, vi ringrazio per l'attenzione e ciao a tutti.